Il dirigente del Papiro Volle in Unzio Currenti, a 48 ore dal termine previsto per l'iscrizione della squadra alla nuova Serie B Unica, continua a rivolgere alla città il suo carato appello. Il fiume freddo può e deve fare di più. E' quindi probabile che la decisione, sulla sorte di una delle realtà più belle del panorama sportivo ionico etneo, verrà presa in extremis. L'affetto e il sostegno della gente, come precisa Currenti, non è affatto mancato. Anzi, ha rappresentato quella molla che ha spinto la dirigenza a non cedere subito alle pressioni di Matera per la cessione del titolo sportivo, continuando a credere a un progetto difficile ma affascinante. Quel che manca al momento è una risposta da parte di qualche esercizio commerciale in grado di dare segnali piccoli ma decisivi. Da questo punto di vista manca ancora qualcosa, anche se c'è una generale fiducia sul fatto che in questi ultimi due giorni potrà arrivare quel che ancora è mancato. Un ulteriore segnale di avvicinamento da parte dell'amministrazione, ad esempio, così come l'entrata in scena di un partner che creda nella squadra e ne sostenga in toto il progetto tecnico. Currenti si ritiene comunque soddisfatto dall'idea della sottoscrizione, i cui dati sono presenti sul profilo Facebook della squadra. La città adesso discute del problema e sembra più vicina alle sorti della società. A breve scopriremo se tutto ciò basterà per proseguire in un progetto tecnico entusiasmante, capace, partendo dal nulla, di portare a fiume freddo la terza serie nazionale.